Buongiorno, pronti a partire l'ultima giornata? Feste della comunicazione Piazza Ido Battistone cominciamo niente un po' di meno che con Pier Giorgio Odifreddi ok dunque teoria matematica del comportamento non so quanto possa valere perché per quanto io potessi prevedere questa mattina non ci sarebbe dovuto essere nessuno certamente non sarei venuto io a sentire qualcuno alle nove e mezza e evidentemente questo fa sì che questa teoria non sia poi tanto predittiva come di solito ci sia ci si aspetta dalle teorie matematiche ma scherzi a parte cosa significa matematica e comportamento naturalmente uno penserebbe che la matematica secondo i dettami dei nostri ex ministri della cultura forse i peggiori che abbiamo avuto perché sono quelli che poi hanno in qualche modo influenzato la scuola per più di cento anni anzi in realtà quasi cento anni perché era il 1923 quando si cominciò a pensare alla riforma Croce Gentile pensavano che ci dovesse essere una separazione fra gli insegnamenti da una parte l'insegnamento umanistico in cui si imparano e si insegnano cose inutili a coloro che poi dovranno andare a comandare alla classe dirigente e dall'altra parte invece gli istituti tecnici in cui si insegnano cose utili a coloro che poi dovranno andare a lavorare naturalmente quelli no è bene che facciano queste cose la matematica ovviamente fa parte di questa seconda parte di insegnamenti non si doveva insegnare nella prima per tantissimi anni al liceo classico non si è insegnata quasi niente adesso si sono aggiunte alcune ore ma comunque rimane così e però si pensa che l'umanesimo abbia o si pensava che avesse una specie di monopolio perlomeno in certe aree certo la matematica si applica nelle scienze la fisica la chimica la biologia ormai addirittura la medicina anche se molti virologi non se ne sono accorti che per esempio serve fare i modelli matematici eccetera ma ci sono aree si pensava che sono invece immuni e lo saranno sempre dall'uso e dall'invasione della matematica e per questo ho parlato di relazioni pericolose e le relazioni pericolose sono in questo caso particolare potrei anche farne un prossimo anno per esempio quando ci sarà un argomento adatto la stessa cosa dicendo però tra l'altro vedo che qui le cose non si vedono benissimo perché lo schermo non è in larga sufficienza ma adesso i tecnici entreranno in funzione dicevo invece dell'etica avrei anche potuto parlare dell'estetica che sono appunto i due campi che si pensava fossero immuni dall'intervento della matematica vedremo che in realtà coloro che lo dicono e che lo pensano sono semplicemente ignoranti nel senso letterale della parola non sanno delle applicazioni che invece ci sono nella matematica e qui addirittura per metterla in una maniera un po' tranchiang ho detto semplicemente e questo è il tema che cercherò di sviluppare l'etica è un campo uno dei tanti campi di applicazione della matematica può sembrare una cosa un po' eccessiva ma anche gli umanisti dovrebbero saperlo perché poi quelli sono caricature di umanisti tra poco ne vedremo due immagini di queste caricature perché già Platone e poi Aristotele subito dopo sapevano benissimo che la matematica avrebbe potuto avere delle applicazioni nel campo dell'etica in particolare in questo dialogo minore che si chiama il protagora Platone dice che cos'è la vita giusta che poi è ovviamente l'obiettivo dell'etica e l'arte della misura e quando uno comincia a pensare alla misura ebbè ovviamente di che cosa si parla in questo dialogo eccesso e difetto guardate grande e piccolo maggiore e minore positivo e negativo i termini del discorso il linguaggio dell'etica secondo Platone nel protagora perlomeno era appunto un linguaggio che si poteva ispirare forse si doveva ispirare alla matematica l'altro grande filosofo dell'antichità Aristotele nell'etica addirittura usa delle espressioni per parlare del comportamento che sono espressioni tipicamente matematico che perlomeno oggi noi usiamo soltanto più nel campo matematico cioè ellissi e iperbole cioè il comportamento ellittico e iperbolico cosa vuol dire comportamento ellittico? beh quando è deficitario quando facciamo meno di ciò che dovremmo e questo è ovviamente il contenuto dell'etica fare ciò che si deve oppure quando facciamo di più quindi il comportamento iperbolico e poi soprattutto la regola aurea come la si chiama in tanti campi non soltanto in occidente cioè trovare il giusto mezzo fra gli estremi di nuovo questo è quello che tipicamente si fa in geometria quando si ha un segmento per esempio una curva e si va a cercare il giusto mezzo però questo è ovvio che è un uso della matematica molto elementare molto superficiale come d'altra parte non poteva non essere a quell'epoca quando il sapere era ancora piuttosto rudimentale che che ne pensassero croce gentile e tutti coloro che poi hanno seguito i loro insegnamenti e sono andati a studiare quello che appunto loro veniva suggerito ma se facciamo un salto di vari secoli prima di entrare naturalmente nel vivo della cosa guardiamo questo povero uomo perché naturalmente è finito male che si chiama Spinoza Spinoza addirittura ha dedicato un'opera all'etica che di solito nei dipartimenti di filosofia viene chiamata solo così etica per non ricordarsi qual era il titolo completo di quest'opera che era invece l'etica dimostrata in maniera geometrica si sarebbe dovuto aggiungere alla maniera geometrica di naturalmente Spinoza il quale non aveva idea di come si facesse una dimostrazione matematica e se uno legge l'etica naturalmente si mette le mani nei capelli perché è vero che l'impianto è un impianto matematico ci sono definizioni, assiomi, teoremi, dimostrazioni ma sono caricature di teoremi e di dimostrazioni che non stanno né in cielo né in terra e il fatto che poi moltissime persone pensino che questa opera di Spinoza sia una delle vette del pensiero razionalista perlomeno del Seicento dimostra che appunto era stata scritta da chi la matematica non la sapeva e letta da coloro che non la sapevano quindi insomma giustamente adattano ai propri fini ma naturalmente dopo gli inizi della filosofia moderna in particolare dopo il razionalismo e quindi vedete che sono passati secoli, anzi millenni da Platone fino a Spinoza arriva la tragedia del mondo moderno arrivano le caricature queste sono caricature nel senso letterale l'ho messa apposta che così potevo parlare di caricature senza essere insultante nei confronti di coloro che vengono caricaturati che sono da una parte naturalmente Leopardi e dall'altra parte il professor Cacciare di fronte al quale è sempre Minchino e che cosa sono? Per quale motivo questi dal punto di vista del nostro discorso il nostro ragionamento sono caricature perché vi lascio che siano loro a dirvelo anzi in realtà più lui a destra che quello a sinistra cioè questa è una frase del professor Cacciari non mi è mai capitato nella vita di citare Cacciari ma questa volta mi tocca invece la cosa più dannosa al mondo sarebbe pensare di porre la questione del rapporto tra matematica e politica o più in generale tra scienza e politica nei termini di rendere scientifica la politica questa sarebbe la follia la totale irrazionalità pensate oggi nel tempo del covid naturalmente queste cose sono state ovviamente smentite l'articolo da cui è tratto questa citazione si chiama matematica e politica voi vi chiederete perché Cacciari abbia scritto un articolo del genere perché l'avevamo invitato a un convegno appunto che si faceva a Venezia e lui arrivò con queste belle cose ora follia totale irrazionalità tra l'altro l'uso dei colori magari poi la gente lo capisce ma è meglio dirglielo subito il verde sono le cose più importanti diciamo così della slide il blu invece sono in genere i titoli dei lavori di coloro di cui parlo e il rosso invece sono i nomi di modo che almeno si può cercare di capire qual è la cosa e poi dice poiché non era forse molto sicuro della sua teoria come diceva il nostro Leopardi nostro poi comunque vabbè anche suo forse nulla di più irragionevole di voler ragionevole il mondo ora oggi nell'era di internet è facile andare a verificare le citazioni non c'è nessuna citazione del genere di Leopardi Cacciari fa quello che molti fanno confesso anch'io cioè che spesso uno si inventa le citazioni infatti ogni tanto qualcuno mi dice ma come fai a ricordarti tutte le citazioni me le invento no? semplicemente è molto più semplice però faccio bene secondo voi faccio bene va bene però in questo caso no effettivamente io credo tra l'altro che Leopardi se avesse scritto una cosa del genere cosa che nello Zibaldone questa è la voce di Leopardi che arriva dall'aldilà naturalmente le voci nello Zibaldone si trova moltissimo a proposito della ragionevolezza o irragionevolezza ma il problema è che credo che Leopardi che in fondo aveva un'infarinatura di pensiero scientifico ha scritto a 14 anni una storia dell'astronomia noiosissima però da 14 anni non è che si poteva poi aspettarsi molto che avrebbe fatto una distinzione fra ragionevole e razionale e la faremo tra un momento quando entriamo nel vivo e forse allora la cosa potrebbe essere effettivamente sensata nulla di più irragionevole di voler razionare di voler razionale il mondo quello potrebbe essere una cosa su cui si può discutere ma non ci curiamo di loro e guarda e passa però perché li ho citati? li ho citati perché sono due tipici esponenti uno dell'ottocento e uno della fine del novecento della crisi che il pensiero scientifico ha avuto quando è arrivato ovviamente il romanticismo che ha fatto quella divisione di cui diceva agli inizi che poi è stata sposata da croce gentile che bisogna separare queste due cose che invece da Platone fino a Spinoza erano e anche dopo naturalmente perché anche nel settecento le cose hanno continuato ad andare così invece erano unite e allora noi cercheremo di unire di nuovo le cose che i romantici e i post romantici hanno separato e quindi tenteremo di fare un'etica matematizzata in che senso? beh ci sono tanti modi per esempio il metodo assiomatico è quello che ha seguito Spinoza malamente come ho detto ma non era colpa sua non era nemmeno compito suo fare il matematico e fare le applicazioni all'epoca comunque il metodo assiomatico è quello cercare di fare dei modelli di fare delle teorie in maniera da precisare i termini che vengono usati cercare di specificare quali sono le premesse del nostro discorso e quali sono le conclusioni che si possono derivare da queste premesse e quindi teoremi di possibilità da una parte e teoremi di impossibilità dall'altra e quando poi ci si trova di fronte a teoremi poi uno può discutere la cosa può piacere o no ma non è più un'opinione diventa un fatto le cose sono così perché si dimostrano cosa che in genere nel comportamento in generale e nella politica in particolare che è un tipo particolare di comportamento non si fa e poi appunto teorie del comportamento dico teorie al plurale perché ce ne sono tante anche perché il comportamento è variegato quindi io comincerei da questo come si può trattare in maniera matematica la preferenza le preferenze che noi abbiamo sia come individui sia come gruppi di individui e ovviamente poi le applicazioni delle preferenze ai gruppi di individui sono quelle tipiche che si possono fare in politica e cominciamo da questo signore che si chiama Jeremy Bentham molti di voi conosceranno un filosofo della fine del settecento Blu quindi questo è il titolo della sua opera Principi di morale e di legislazione che cosa ha fatto Bentham? è passato alla storia per la coniazione diciamo così di questo termine l'utilitarismo cioè ha sdoganato come si direbbe oggi l'idea dell'utilità e vedremo che ovviamente nel caso suo la cosa era abbastanza superficiale era un trattato filosofico non ancora matematico e ha tentato però di fare quello che lui stesso ha chiamato il calcolo felicitario cioè di fare un'applicazione del calcolo cioè della matematica per cercare di trovare la felicità ora come si trova la felicità? beh naturalmente dipende dalla definizione che uno ne dà perché non si può parlare in astratto e lui introduce quello che si chiama l'indice di piacere noi di fronte alle cose o alle persone agli oggetti agli eventi alle situazioni che abbiamo intorno assegniamo intuitivamente dei gradi di piacere questo mi piace più che l'altro eccetera è possibile fare un calcolo basato su questi indici e tra l'altro come si possono determinare questi indici? come si fa a sapere per esempio se io preferisco venire a Camogli a fare una conferenza o se preferisco andare a fare un viaggio in India per esempio sono due cose completamente diverse tu dici sì ma poi perché tu certo qui a Camogli sei di casa e anche se uno intuitivamente pensa sì questo lo preferisco a quell'altro è molto complicato cercare di farlo ma l'idea di Bentham che poi è diventata fondamentale in seguito è quella di dire se riusciamo effettivamente a stabilire a mettere dei numeri in qualche modo al nostro indice di piacere a indicizzare il piacere attraverso i numeri poi possiamo cercare di massimizzare questo piacere cioè l'utilitarismo è il tentativo di massimizzare il proprio piacere quando questo piacere viene quantificato in maniera numerica naturalmente salta saltiamo volevo dirvi questo ovviamente non posso entrare nel dettaglio di nulla di quello che dico perché è più o meno quello che sentiremo quest'oggi l'abstract il programma di un corso che ho tenuto varie volte all'università di Cornel che si chiamava matematica e politica per l'appunto quindi ci vorrebbe un intero semestre se volete possiamo stare qui magari tutto adesso in un autunno forse no ma magari ci vediamo in primavera e così via saltiamo appunto dicevo di un secolo andiamo in Francia Léon Valrat uno dei grandi economisti dell'Ottocento la sua opera Elementi di Economia Pura e che cosa fa? Lui comincia anzitutto a generalizzare l'idea che aveva Bentham perché Bentham aveva l'idea in cui ciascuno di noi ha diciamo così una serie di indici di piacere e si preoccupa della massimizzazione di quegli indici lì ma lui diceva viviamo in una società caro filosofo forse è bene che teniamo anche conto degli indici di piacere degli altri e soprattutto come si fa a dare l'ho già accennato prima a dare un indice matematico a qualche cosa che a noi piace beh essendo un economista il modo più ovvio di dire è di lasciamo da parte i valori morali o etici che sono cose molto astratte su cui è difficile mettere le mani e passiamo ai valori economici perché poi è lì che si guarda la cosa dice preferisci venire a Camoglio o preferisci andare in India quanto mi costa venire o quanto ci guadagno diciamo così non solo in termini monetari ma per lui soprattutto monetari a fare una cosa oppure a fare l'altra e se noi riusciamo a tradurre tutto in termini di valori quindi in realtà di costi e benefici e beh allora le cose cominciano a diventare atte a essere trattate da un punto di vista matematico quindi si comincia a parlare di prezzi e di costi naturalmente i prezzi sono gli indici di valore dei produttori delle merci i costi invece sono gli indici di valore dei consumatori noi giudichiamo le cose in base a quanto ci costerebbe comprarle mentre i produttori a quanto costerebbe produrle si ha il solito meccanismo di cui tutti sentiamo parlare la domanda e l'offerta che è nata appunto in questa situazione dal punto di vista matematico e si cerca che cosa? Si cerca il famoso equilibrio fra la domanda e l'offerta un equilibrio che in un certo senso era già stato anticipato da un altro filosofo che poi è diventato famoso come economista che però non aveva scritto delle cose proprio di economia pura che si chiamava Adam Smith ci arriviamo tra un momento quindi siamo passati dagli indici astratti numerici ma personali di Bentham a quelli interpersonali e economici e monetari di Wallra è possibile la domanda a questo punto è questa è possibile veramente trovare l'equilibrio fra la domanda e l'offerta questo è quello che il mercato si chiede e gli economisti anche si chiedono questo è un signore che sembrerebbe un arabo ma in realtà è un economista italiano che poi stava anche in Svizzera che però andava alle feste mascherate quindi l'ho beccato nel momento come oggi si farebbe con i selfie o con i paparazzi il suo libro il corso di economia politica e lui introduce una nozione interessante perché a che cosa dovrebbe tendere la società beh la società dovrebbe cercare ovviamente non di massimizzare l'utile di un individuo quello troppo comodo o di pochi individui dovrebbe cercare di in qualche modo massimizzare qualche cosa che abbia a che fare con la società intera e Pareto introduce questa nozione che poi è diventata fondamentale di ottimo paretiano appunto e l'ottimo paretiano a prima vista può essere una cosa interessante definita in questo modo è una situazione in cui nessun individuo può migliorare la propria posizione senza peggiorare quella di qualcun altro cioè si arriva a una situazione in cui in un certo senso sembrerebbe ottimale perché appunto se io voglio qualche cosa di più di quello che ho devo andare a toccare qualcun altro ho messo ottimo come vedete tra virgolette Pareto non lo metteva tra virgolette lui pensava che quello fosse effettivamente un ottimo ma pensate a una situazione molto semplice pensate di avere una torta questa torta è divisa in due parti uguali e ci sono tre persone però se tre persone di queste tre persone due prendono ciascuno la metà della torta e l'altro non prende niente quella è una situazione di ottimo perché se quello che ha metà della torta ne vuole di più deve andare a prendere un po' dalla parte di quell'altro che ne ha esattamente metà e quindi gli toglie qualche cosa ma se quello che non ha niente ne vuole di più deve andare a togliere a qualcuno di quelli che ce l'hanno quindi è una situazione un po' paradossale sembrerebbe essere una situazione ottimale ma lo è solo in un senso molto debole e vedremo che uno potrebbe dire allora cosa ce ne importa troviamone uno più forte aspettate perché le cose diventano presto imbarazzanti il primo imbarazzo è questo siamo nel 1954 questi due signori a sinistra vedete Kenneth Arrow e a destra invece un francese Debreu Arrow tra l'altro è uno dei più grandi economisti del novecento è uno dei primi ad aver preso il premio Nobel per l'economia che come forse sapete è stato istituito nel 1969 non da Nobel stesso ma dalla banca di Svezia in realtà e viene dato ma viene considerato una cosa un po' leggermente diversa il primo fu nel 69 e subito nel 72 Arrow prese il premio Nobel perché era uno appunto che aveva fatto moltissime cose tra cui questo lavoro insieme a Debreu Debreu lo prese poi in seguito nel 1983 il premio Nobel quindi stiamo parlando di risultati che non soltanto sono interessanti da un punto di vista matematico ma che sono così importanti che hanno portato coloro che l'hanno fatto che l'hanno dimostrato negli anni 50 a prendere tutte e due indipendentemente il premio Nobel quindi insomma inchiniamoci di fronte a questa cosa e che cosa hanno dimostrato Arrow e Debreu la prima parte vedete la prima freccetta rossa se in un mercato ci sono solo due merci questi sono i tipici mercati sovietici per esempio qui c'erano i cetrioli che ne so il tè e basta nient'altro allora effettivamente si può dimostrare e la cosa non è semplice nemmeno a questo livello banale che l'equilibrio esiste ed è una realizzazione di quello che diceva l'Adam Smith che ho citato poco fa cioè della mano invisibile che non è quella che voi sentite soprattutto le signore se andate in Messico sul metro di città del Messico e ad un certo punto vi sentite questa mano invisibile che vi tocca nelle parti intime così perché effettivamente quello è la mano invisibile nel sistema economico è questo meccanismo secondo il quale i liberisti come Adam Smith pensano che se ciascuno fa i fatti propri nel mercato io produco cosa mi pare e quell'altro produce cosa pare a lui senza preoccupare preoccuparci in qualche modo di interagire c'è questa mano invisibile che miracolosamente conduce il mercato all'equilibrio se fosse così i liberisti avrebbero ragione e Aro e Debreu sembrano dare la ragione loro con questo piccolo problema che il loro teorema è dimostrato nel caso che ci siano due sole merci persino in Italia naturalmente in tanti altri paesi del mondo i mercati sono per fortuna un po' più vari hanno più di due sole merci la cosa interessante è che come spesso succede in matematica da due a tre il passaggio è radicalmente diverso cioè mentre con due sole merci effettivamente l'equilibrio esiste la mano invisibile esiste quando ci sono tre merci o più invece l'equilibrio in generale non c'è quando c'è non è stabile cioè nel senso che lo si raggiunge ma poi non lo si mantiene basta un piccolo cambiamento nelle situazioni del mercato e lo si perde di nuovo e in ogni caso non si raggiunge automaticamente quando c'è quindi la teoria di Adam Smith è completamente diversa basterebbero questi risultati a sconfessare il liberismo che invece imperterrito sia da parte dei politici che da parte degli economisti continua a essere riproposto soprattutto è ovviamente una politica di destra come sappiamo incuranti del fatto che i matematici poverini dimostrano i teoremi di impossibilità ma come diceva Bertrand Russell l'ingenuo non sapeva che la cosa era impassibile e dunque la fece però in questo caso non è che uno può fare le cose impossibili se non si possono fare non si possono fare ma non basta perché è ancora peggio la situazione perché Amartya Sen vedete un po' dopo cioè il 1970 Amartya Sen tra l'altro molti di voi lo conosceranno qui a Roma al festival di matematica all'auditorium di Roma viene spessissimo in Italia ogni estate praticamente perlomeno prima del covid è uno dei grandi pensatori morali dello scorso secolo ha scritto tantissimi libri eccetera ma è diventato famoso negli anni settanta quando ancora era giovane per aver dimostrato in un articolo che si intitolava l'impossibilità del paretiano liberale un teorema che è veramente imbarazzante cioè che la libertà individuale quello che l'individuo vorrebbe fare per i propri interessi è l'efficienza sociale misurata da quella nozione di ottimo di pareto alla quale ho accennato prima sono incompatibili abbiamo detto la nozione di ottimalità di pareto è una nozione molto debole ma ciò nonostante benché sia così debole è incompatibile con l'esistenza delle libertà individuali cioè dobbiamo scegliere preferiamo la libertà o preferiamo una situazione in cui la società è abbastanza efficiente in modo da raggiungere l'ottimo paretiano anche se quell'ottimo come abbiamo detto nel caso della torta è un ottimo molto insoddisfacente le due cose insieme non possono essere messe e quindi bisogna fare una scelta e allora non si può continuare a parlare sia dell'uno che dell'altro prendete per esempio i partiti di sinistra penso che ne troviate qualcuno ma comunque moderatamente di sinistra che ovviamente pretendono e vorrebbero avere l'efficienza sociale e quelli di destra che invece pretendono più che altro la libertà individuale beh il motivo per cui non vanno d'accordo e non è perché non si sono messi d'accordo al prima delle elezioni non hanno fatto il patto di governo eccetera perché propongono due cose che sono in contraddizione una con l'altra e allora forse si spiega il motivo per cui poi dopo si cerca di far quadrare il cerchio e i matematici sanno che il cerchio non si può quadrare Arsani tra l'altro ho dimenticato di dire ma c'era scritto chiaramente che anche Amartya Senna ha preso il premio Nobel per l'economia nel 1998 e Arsani di cui ho appena detto il nome anche lui l'ha preso nel 1994 cioè cominciamo a capire che i premi Nobel cioè la cultura economica e la pratica invece economica e politica vanno in due direzioni completamente diverse cioè la gente studia dimostra le cose che si possono fare quelle che non si possono fare e i politici e gli economisti vanno o meglio gli industriali vanno per i fatti loro incuranti del fatto che certe cose non si possono appunto raggiungere il suo lavoro del 77 è molto interessante si chiama morale e teoria del comportamento razionale è interessante perché ha cercato di rendere matematica non soltanto l'idea di Smith che dicevo prima appunto questa dell'equilibrio della mano invisibile eccetera ma anche quella di Kant ricordate l'imperativo categorico che qualcuno di voi avrà studiato in filosofia tutti questi termini che vedete qui imparzialità l'universalità la reciprocità dei comportamenti tutte queste cose sono state sistematizzate da questo signore appunto Arsani qui sulla sinistra vi ho messo un libricino che lui ha scritto non è quello tecnico che l'ha portato al premio Nobel ma un libricino bellissimo di un centinaio di pagine che si chiama L'utilitarismo è un po' la conclusione di un percorso che parte da Bentham e arriva fino a lui parte da Bentham in maniera molto approssimativa naturalmente molto filosofica e però poi due secoli dopo arriva a un trattamento matematico quindi vale la pena di leggerlo e questo è un filone di quello che i matematici hanno fatto vedete come si parte da lontano da idee filosofiche magari approssimate magari ingenue che poi però vengono espresse in maniera matematica e raggiungono risultati di grande valore quel secondo filone è quello delle scelte sociali ora scelte sociali potete immaginare che cosa significhi significhi che appunto anche da un punto di vista politico noi abbiamo delle preferenze rispetto ai programmi per esempio che i partiti presentano o che gli individui presentano oppure preferenze rispetto ai candidati vi piace più quello che quell'altro eccetera come è possibile amalgamare le nostre preferenze individuali in maniera da estrarre da queste un ordine sociale cioè come è possibile far vincere un programma o un candidato quando gli elettori hanno certe preferenze rispetto ai vari programmi o ai vari candidati questo è il tipico problema della politica e uno si aspetterebbe che dice ma queste cose le sappiamo benissimo perché i giornali ci parlano di questo tutti i giorni e voi non so quanti di voi ci fossero perché è difficile riuscire a stare alzati la sera per sentire l'ultimo che parla e poi alzarsi la mattina per venire a sentire il primo che parla ma chi c'era ieri sera a sentire Travaglio può considerare questa parte una specie di controcanto a quella che è stata la conferenza di Travaglio Travaglio ieri sera poi tra l'altro siamo amici da tanti anni mi faceva quasi tenerezza perché mi ricordava il personaggio delle rane di Aristofane questo personaggio notate che Aristofane era molto tempo fa quindi non c'è nessun riferimento ai partiti moderni eppure ciò nonostante Aristofane presentava questo personaggio che camminava per la strada con questo enorme sacco sulle spalle che era difficile da portare e questo sacco era pieno di merda proprio letteralmente perché la poesia greca spesso è anche questo o il teatro in questo caso e la merda era la politica cioè quindi tanto per dire non è che noi oggi abbiamo questo sentimento a volte di antipolitica perché c'è venuto adesso e come siamo degenerati no il pensiero classico che i leader hanno studiato grazie a Croce Gentile dovrebbe averglielo insegnato che già all'epoca era così notate che lo dico a passant che Aristofane in quella in quella commedia appunto delle rane introduce quella che poi verrà chiamata la legge di Gresham che è famosa in economia lui la introduce con un motto che è bene ricordare che è il politico cattivo scaccia il politico buono oggi in economia il motto viene tra l'altro è stato reintrodotto da Copernico pensate voi e poi oggi si chiama legge di Gresham perché finalmente un economista l'ha introdotto e allora gli economisti che leggono solo le cose di economia l'hanno imparato e nel caso dell'economia il motto di Aristofane o di Gresham è che la moneta cattiva scaccia quella buona e quindi vedete che anche dall'antichità si sarebbe potuto imparare qualcosa ma questo per dire che cosa stiamo per fare allora dove comincia la teoria matematica delle scienze sociali comincia nel 1770 non a caso l'anno preciso ovviamente è casuale ma il periodo no perché siamo 19 anni prima del 1789 voi direte che calcoli non è una questione di calcoli perché nel 1789 ovviamente arriverà la rivoluzione francese c'erano già i fermenti che avrebbero portato alla rivoluzione e molte persone questo era un cavaliere il cavaliere di Bordà cominciavano a chiedersi ma quando ci fosse un sistema in cui non ci fosse più il re bensì ci fossero gli elettori a dover scegliere i loro i candidati preferiti come si dovrebbe fare questo è il problema delle leggi elettorali 1770 notate che poi in Italia tutti riscoprono sempre l'acqua calda da Bozzi che ieri Travaglio citava alla commissione D'Alema e poi a tutte le riforme Berlusconi Renzi quest'ultima eccetera tutti riscoprono sempre le cose nuove come faceva Bordà Bordà non era così banale come i nostri che ci chiedono di mettere una croce sulla scheda in senso letterale e metaforico anche intanto uno mette la croce proprio anche sul progetto di voto l'idea di Bordà era un po' più sofisticata la premessa ovvia è che se ci sono solo due candidati è ovvio che basta votare la maggioranza ce ne sono due uno di quelli prende la maggioranza a meno che proprio uno è così sfortunato che si dividono i voti in due però a volte si hanno dei meccanismi per evitarlo per esempio al senato americano dove ci sono 100 senatori per evitare l'ampass di in cui 50 senatori votino da una parte 50 dall'altra in quei casi lì il presidente del senato che è il vice presidente della repubblica può votare ed è lui a dirimere per rompere diciamo così questa situazione di parità ma quello succede quando ci sono 100 elettori nelle elezioni dove ci sono in genere migliaia o milioni come nelle politiche è difficile farlo Bordà proponeva una cosa un po' più sofisticata dicevo nel caso di tre o più elettori come facciamo a scegliere fra tre elettori non si può votare a maggioranza perché potrebbero prendere un terzo di voti ciascuno nessuno arriva alla maggioranza assoluta e allora siamo fregati l'idea sua era si votano le liste di preferenza non quelle dei partiti ovviamente ciascuno di noi ha una lista di preferenza cioè ci sono tre candidati per esempio li mettiamo in ordine questo è quello che preferisco poi c'è il secondo questo e il terzo questo si richiede alle persone di avere un minimo di senso dentro la testa e questa è una richiesta molto grande comunque il minimo è una richiesta massima cioè il fatto di se io preferisco A a B e B a C poi non posso però preferire C ad A perché altrimenti mi metto in circolo e allora diventa semplicemente vuol dire che non so chi preferisco e allora la sua idea è comunque se le cose vanno linearmente io voto la mia lista di preferenza dico il mio primo candidato è questo il secondo è questo il terzo è questo il quarto è quello se ce ne sono 50 faccio così ciascuno fa la sua lista di preferenza si contano semplicemente i voti quello che prende il minor numero perché ovviamente gli uni sarebbero i preferiti e così via vince c'è un problema però e questo Bordà incomincia subito se ne accorge subito dice dipende il risultato da come si assegnano i punti forse voi non avete abitudine con questi sistemi di preferenza perché non ci danno la possibilità di sperimentarli naturalmente nessuna legge elettorale si preoccupa di rispecchiare effettivamente le preferenze degli elettori e allora però quando si fanno le partite di calcio per esempio e beh voi provate un po' le partite di calcio io adesso purtroppo sono poco addentro alle questioni una volta chi vinceva prendeva due punti chi pareggiava prendeva uno e chi perdeva ne prendeva zero credo che adesso sia cambiato ma non so come ma perché è cambiato è cambiato perché il calciatore o meglio la FIFA l'associazione di calciatori sa quello che Bordà aveva scoperto due secoli fa cioè che i risultati dipendono dal modo in cui si assegnano i voti o i pesi o i punti nei campionati si cambia perché altrimenti vincerebbe qualcun altro questo è il tipico atteggiamento che hanno in generi politici quando fanno le leggi elettorali il loro problema non è cercare l'ottimo né paretiano né addirittura in qualche altro modo ma è di fare una legge che naturalmente faccia vincere me o i miei amici e questo non è proprio quello che si dovrebbe aspettarsi comunque interessante che ci siano dei sistemi elaborati di voto che però hanno dei problemi in questo caso il problema è l'assegnazione dei pesi questo è un signore un marchese notate che questa gente sono statue queste cioè noi abbiamo statue non dico di Mussolini ma comunque di personaggi di quel genere i grandi politici eccetera qui sono i matematici in Francia che ricevono le statue per aver fatto questi studi completamente inutili perché appunto poi intanto nessuno se ne frega Condorcet ha un'idea più geniale e lui dice ma scusate se quando abbiamo due candidati la votazione a maggioranza è ottima nel senso che uno vota a maggioranza tra i due e l'altro viene eliminato ne abbiamo tre va bene li votiamo due a due prima i primi due poi il vincitore col terzo e siamo a posto benissimo anche questa è una cosa che si può fare ed è quello che si fa negli Stati Uniti perché tutti dicono sempre negli Stati Uniti ci sono due candidati per le elezioni politiche per le elezioni da presidente no ci sono due candidati alla fine dopo che gli altri sono stati eliminati con una serie di votazioni e allora qual è il problema di questo genere di votazioni questo si chiama il paradosso di Condorcet il paradosso è che il risultato dipende dall'ordine in cui si fanno le votazioni di nuovo una fregatura perché o fate tutte le votazioni e allora poi uno viene a sapere o altrimenti a volte può succedere qualche cosa di sbagliato questi signori quello vedete sopra le votazioni di quattro anni fa non c'è bisogno che vi dica naturalmente chi sono questi signori a sinistra c'è Trump al centro c'è la signora Clinton e a destra c'è Sanders cosa è successo nelle elezioni del 2016 la Clinton ha vinto la nomination contro Sanders poi potreste dire ma le primarie erano primarie democratiche no perché sapete che in America chiunque può votare alle primarie di qualunque partito non è che uno basta che si iscriva al partito ma non è che si deve iscrivere solo a un partito quindi la Clinton vince su Sanders e Trump alle elezioni vince sulla Clinton e allora uno dice a maggior ragione se Trump avesse corso contro Sanders avrebbe vinto non possiamo saperlo però l'unica cosa che abbiamo come dati sono le previsioni statistiche come si chiamano i polls e queste previsioni dicevano che se invece della Clinton il candidato fosse stato Sanders avrebbe vinto lui cioè si crea una situazione circolare come quella di cui parlavo poco fa Trump vince contro la Clinton Clinton vince contro Sanders ma Sanders vince contro Trump e a quel punto tutti e tre possono vincere l'unica cosa che bisogna fare è scegliere la prima votazione e poi fare la seconda in maniera adeguata cioè in altre parole non è possibile scegliere fra questi tre perché la popolazione non ne vuole nessuno dei tre effettivamente perché c'è questa circolarità notate che la cosa non è eccezionale queste sono le votazioni del 1976 qui bisogna dire i nomi perché nessuno più se li ricorda Jimmy Carter Gerald Ford e Ronald Reagan Carter ha vinto su Ford alle elezioni Ford aveva vinto la nomination repubblicana contro Reagan ma di nuovo le previsioni dicevano che se il candidato fosse stato Reagan avrebbe vinto lui contro Carter cosa che poi fece nel 1980 però vabbè quella era un'altra elezione ma comunque di nuovo una situazione circolare questo non va bene vuol dire che c'è un difetto grave nel sistema democratico è possibile eliminarlo questo sistema di difetti ce ne sono tantissimi perché ridete questo signor Otellin che non compare nella slide non è nessuno dei due di questi nel 1929 scrive un articolo che si intitola stabilità nella competizione ovviamente lui pensa alla competizione non tanto elettorale quanto nella competizione economica ma notate che le due cose sono completamente indistinguibili non perché ci sia antipolitica ma perché i meccanismi con cui si vendono e si comprano i prodotti sono gli stessi con cui si vendono e si comprano i candidati si comprano nel senso metaforico naturalmente dovrebbe essere ed è per questo che poi questa gente non lui in particolare ma ne vedremo altri dopo prendono i premi Nobel per l'economia anche se fanno cose che a prima vista sembrano di politica e allora qual è l'idea signor Otellin scopre quello che si chiama il paradosso dei gelatai e per questo ho messo questi due signori con i gelatai qual è il paradosso siamo al mare c'è una spiaggia di un chilometro ci sono due gelatai che vogliono vendere i loro gelati problema qual è la posizione ottimale in cui si devono porre i due gelatai su questa spiaggia per attirare il maggior numero di gente è abbastanza ovvio si devono porre a 250 metri dai bordi tutti e due cioè a metà della metà a un quarto da una parte dell'altra perché perché così uno prende metà dell'elettorato o degli acquirenti che vengono da lui e nessuno di questi fa più di 250 passi e dall'altra parte l'altro fa uguale e allora dove sta il paradosso il paradosso sta che nel fatto che uno di questi due dice ma io mi sposto un passo a sinistra e quelli che sono alla mia destra qui continueranno a venire da me perché sono l'unico che sto sulla spiaggia più vicino a loro però ti rubo un po' dei tuoi compratori a te ma l'altro non è scemo e dice allora io mi sposto un passo a sinistra e l'altro si sposta un passo a sinistra e l'altro a destra e che cosa succede alla fine i due geletai stanno esattamente nel centro il risultato è che gli estremi naturalmente si seccano non vanno a comprare il gelato perché dice io devo farmi 500 metri non ci vado e in politica gli estremi infatti non votano e questo è il motivo per cui in questi sistemi elettorali recenti la gente non va più a votare c'è stata un'elezione in Emilia Romagna qualche anno fa in cui i votanti sono stati il 36% poi noi ci preoccupiamo di chi prende la maggioranza ma chi se ne frega di chi prende la maggioranza se il 36% di gente ha votato vuol dire che il 64% della gente non era d'accordo con quello chiunque avesse vinto e l'idea è appunto che i politici da una parte e i venditori che producono i prodotti dall'altra tendono a convergere al centro e gli estremi invece vengono esclusi dal gioco della politica o dal gioco invece dell'economia e questo è un famoso film di Fantozzi ve lo ricorderete è un film sulle elezioni in cui lui guarda questi programmi elettorali tutta la notte a un certo punto non capisce più niente ed è veramente così dice non so più chi andare a votare e così via questa è una situazione tipica che gli elettori hanno di fronte a queste situazioni un signore che si chiamava Duncan Black nel 47 scrive un articolo base delle decisioni di gruppo e scopre una cosa interessante è vero che c'è questo paradosso di Condorcet che abbiamo scoperto che ci possono essere situazioni in cui votare due a due i candidati può essere preoccupante perché dà una situazione circolare ma il paradosso di Condorcet non accade se esiste un candidato medio medio cosa vuol dire medio vuol dire che sta in mezzo che non sta agli estremi e se voi pensate alla prima repubblica questo candidato medio questo partito medio non solo c'era ma era quello che ha sempre governato cioè la democrazia cristiana il motivo per cui la democrazia cristiana governava e lo faceva in maniera democratica non era perché c'aveva il nome del partito nello stema ma perché in quelle situazioni quando c'è un partito che nessuno considera il peggiore questo vuol dire medio e allora la situazione è stabile effettivamente si può usare quel metodo di Condorcet a eliminazione eccetera ora in questa situazione che abbiamo noi c'è un partito che nessuno considera il peggiore no perché se prendete il PD ovviamente la Lega considera il PD peggio di tutti e se prendete la Lega gli elettori del PD considerano ovviamente la Lega peggio di tutti ma se prendete i 5 stelle gli elettori del PD e della Lega considerano i 5 stelle prima adesso poi intanto gli elettori sono greggi di pecore che vanno dietro a quello che gli dice il segretario del partito ma in questa situazione in cui i tre grandi partiti sono partiti che nessuno o meglio che qualcuno degli elettori considera il peggiore e beh allora effettivamente non siamo più in quella situazione democratica della prima repubblica e questo è il nostro problema se lo capissimo eviteremmo di mettere soltanto di spazzare i problemi sotto il tappeto e cercheremo di affrontarlo effettivamente e tra l'altro Black dimostra anche che il metodo di Condorcet anzitutto funziona sceglie un candidato e qual è il candidato che viene scelto quello che è preferito dall'elettore mediano cioè in altre parole quello che decide è il candidato che sta al centro e gli elettori che stanno al centro e questa è la spiegazione del motivo per cui la prima repubblica è stata quello che si chiama appunto il trionfro della mediocrità nel senso letterale proprio che l'elettore e il candidato sono medi e la mediocrità è quello scegliere o essere nel centro vedete che si riesce a capire in questo modo naturalmente Black non è che lo dice lo dimostra in maniera matematica partendo dall'ipotesi appunto che avevamo detto prima e qui arriviamo al solito erro che vi ho già citato prima questo grande economista che ha preso il premio Nobel nel 72 per quel teorema sull'equilibrio dei mercati ma il vero risultato importante di Arrow è questo qui quello delle scelte sociali e valori individuali era la sua tesi di laurea nel 1951 ve l'ho messa qua come copertina perché è un libricino anche questo di un centinaio di pagine come quello di Arsani che vale la pena leggere perché fa anche la storia di tutto quello che vi ho detto più o meno finora e dimostra però un teorema meraviglioso per il matematico meno per i politici dimostra che la democrazia non esiste in che senso? nel senso che uno può immaginare sistemi di vario genere ma comunque si immagini di questi sistemi c'è un unico sistema che evita di riprodurre il paradosso di Condorcet cioè di trovare una situazione come quella di Trump Clinton e Sanders e questo sistema è la dittatura ora uno dice vabbè la dittatura non è tanto democratico ma non è che il teorema sfarisce se uno dice che la dittatura non è democratica perché se uno dice voglio un sistema che sia democratico e che non sia dittatoriale allora il teorema dice semplicemente non c'è nessun sistema che soddisfi quelle tre quattro condizioni tra cui il fatto che non ci sia un dittatore che si possono mettere insieme e questo è tremendo perché vuol dire che spesso quando si parla di democrazia qualcuno ha un'idea qualcuno ha un'altra ma queste idee di nuovo non sono compatibili ed è inutile cercare di mettere insieme di mettere una vite quadrata dentro un buco circolare o così via bisogna accettare l'inevitabile e farlo ma ancora peggio perché Amartya Sen che avevo già citato prima anche lui premio Nobel nel 98 in un articolo del 1970 che si chiama appunto impossibilità del paritano liberale quello che ho già citato in realtà che cosa fa lui parla di diritti formalizza questa nozione di diritto cosa vuol dire diritto sostanzialmente vuol dire io ho il diritto di fare qualcosa o di avere qualche cosa quando posso scegliere c'è una cosa di fronte a me la voglio o non la voglio decido io ovvio che i diritti anche a occhio si può immaginare che siano difficilmente compatibili perché se io ho qualche cosa in mano e dico io ho il diritto di avere questa cosa e qualcun altro mi dice anch'io ho il diritto di avere quella siamo fregati perché se siamo in due chi è che la prende e quindi l'intuizione è ovvia ma lui dimostra semplicemente che i diritti non esistono al massimo una persona in una società può veramente avere un diritto su qualche cosa un diritto assoluto e se c'è una persona che ha un diritto quella persona ha tutti i diritti ed è il solito dittatore di Arrow questo è un'estensione del teorema di Arrow e questo naturalmente non va tanto bene ci dice che anche lì le cose non funzionano molto bene di Sen non vi ho messo nessuno dei libri tecnici che ha scritto poi tra l'altro è uno scrittore estremamente prolifico bensì questo che è molto interessante l'ha scritto insieme un altro premio Nobel che si chiama Stiglitz e insieme al consigliere economico di Sarkozy Fitussi si chiama la misura sbagliata delle nostre vite è un altro argomento di cui non parlo oggi che però viene citato nel sottotitolo cioè perché il PIL non basta più per valutare benessere e progresso sociale noi sentiamo sempre e solo parlare di PIL bisogna che il PIL aumenti bisogna che aumenti tra l'altro di una certa percentuale eccetera ormai i fior di economisti e qui ce ne abbiamo due solo in un unico libro ci dicono che il PIL è una misura estremamente rosa se voi andate in Mutan per esempio invece del PIL hanno il FIL e che cos'è? invece del prodotto interno lordo è la felicità interna lorda questo è un sistema naturalmente orientale molto interessante con uno stato naturalmente con dimensioni molto limitate che può fare cose che noi forse non potremmo ma comunque c'è questa possibilità e questi come avete visto di nuovo anche questa teoria delle scelte sociali converge in studi che poi vanno a finire in premi Nobel e l'ultima parte brevemente di cui parlo sono invece i giochi basta con l'utilitarismo basta con le elezioni politiche le scelte politiche giochiamo però i giochi possono essere letterali per esempio gli scacchi le carte eccetera oppure possono essere metaforici qualunque comportamento in realtà è un comportamento in cui si potrebbe praticamente pensare che si sta giocando quando comincia la teoria matematica dei giochi comincia molto presto perché appunto nella modernità nel 600 questi due signori Fermat e Pascal 1654 si scrivono delle lettere questo era il modo in cui i matematici all'epoca facevano ricerca anche oggi lo fanno parlano fra loro però all'epoca si scrivevano sono rimaste le loro lettere e in queste lettere si pongono le basi della teoria della probabilità partendo da cosa partendo dal gioco d'azzardo quello era proprio veramente un gioco e il problema era molto semplice cioè si gioca alla morra per esempio si tirano i dadi eccetera e supponete che succede qualche cosa si sta giocando fuori all'aperto incomincia a piovere si sospende il torneo come si deve dividere la posta in base ai punteggi che i due giocatori hanno ottenuto fino a quel momento oppure questo si sarebbe potuto fare durante il campionato di calcio della scorsa stagione quando a un certo punto arriva il covid e si ferma e si è cominciato a parlare naturalmente che dai calciatori non è che si può aspettarsi molto però si è cominciato a chiedere ma se si sospende il campionato non si dà il titolo oppure c'è un modo per cercare di calcolare chi dovrebbe vincere il titolo in base a quello che è successo prima uno potrebbe alzare la mano ma naturalmente i calciatori e quelli poi avete visto che tipi sono questi presidenti delle società meglio stargliela alla larga perché quelli vi infettano subito come ha fatto quel signore e naturalmente c'è l'altra faccia della domanda il gioco d'azzardo può anche essere la questione teologica e Pascal che nell'ultima parte della sua vita era un po' abbattuto la testa in un famoso incidente sul Ponte de Noi e invece pensare alla matematica non si mise a pensare ad altre cose ai famosi pensieri che spesso qualcuno di voi conosce perché poi sono finiti come spesso è il destino di certe cose sui baci perugina quindi tutti conoscono Pascal per essere l'autore di questi alti pensieri che si mettono sui baci perugina e il suo contributo è stato quello della famosa scommessa c'è Dio o non c'è? Ah non preoccupiamoci se c'è Dio o non c'è preoccupiamoci di vedere quanto rischiamo se c'è e non ci crediamo oppure quanto rischiamo se non c'è e ci crediamo e fa il calcolo della probabilità e dice che conviene credere anche se lui non c'è perché in fondo uno che cosa fa? spreca la vita quanto può vivere cent'anni lui poco perché ha vissuto fino a quarant'anni eccetera quindi a maggior ragione poteva scommettere su quello però se invece Dio ci fosse e noi non ci crediamo rischiamo l'eternità bisogna credere le premesse naturalmente però lui ci credeva eccetera quindi questo è il primo momento in cui si comincia ad usare la matematica la probabilità per cercare di capire come comportarsi quando si gioca secondo momento arriva Bernulli uno dei Bernulli per questo ho messo il suo nome in genere non mettevo il nome per comodità Daniel Bernulli 1738 si preoccupa vedete il suo lavoro teoria sulla misura del rischio si preoccupa di quello che succede a San Pietroburgo a San Pietroburgo c'è un casino che accetta scommesse di qualunque genere e la scommessa di cui lui parla è quella di cui poi parlerà se siamo ovviamente a San Pietroburgo Dostoevsky nel Giocatore Dostoevsky che come voi sapete era un poco di buono poi magari scriveva anche dei veri romanzi però si capisce dai suoi romanzi che frequentava gente che non era tanto per la quale prostitute assassini e così via tra l'altro ha fatto un certo numero di anni nei campi di concentramento sapete quindi insomma come si dice sempre se è finito in galera qualche motivo ci sarà i garantisti dicono quello e che cosa propone Dostoevsky nel Giocatore che se uno va a giocare al casino c'è un metodo infallibile per vincere ed è questo voi tirate per esempio giocate a bianco e nero e puntate che ne so 10 euro e adesso io non so quanto si dia a bianco e nero forse si dà il doppio credo allora uno dice beh se vinco prendo il doppio e se perdo mi sono perso i miei 10 euro allora cosa faccio voglio vincere e recuperare anche quei 10 euro quindi la seconda volta gioco 20 euro di modo che se vinco 40 e se perdo 20 più 10 che ho perso prima fa 30 eccetera e continua così e prima o poi è ovvio che prima o poi esce se tu continui naturalmente non devi cambiare il colore altrimenti ti metti nei guai ma se continui a giocare sempre sullo stesso colore prima o poi quello lì esce e il problema naturalmente è quello che scopre Bernulli è che si esce certo ma potrebbe uscire fra 10.000 anni oppure ti potrebbe costare parecchio e Dostoevsky in tasca non aveva mai quasi nemmeno un centesimo e questo è il problema però Bernulli che era la persona più sensata di Dostoevsky quindi meno nota si preoccupa di capire come si può risolvere il paradosso di San Pietroburgo e scopre una cosa molto importante questa è importantissima e non se ne tiene mai conto o meglio si finge di non saperla e non se ne vuole tener conto cioè che l'utilità di cui abbiamo parlato agli inizi quando parlavamo di Bentham eccetera è decrescente cioè se voi siete ricchi e avete per esempio un miliardo e vi dicono ti do 1.000 euro ma a voi 1.000 euro non fanno né caldo né freddo se invece voi siete un poveraccio che appunto magari sta sulla strada e non ha una lira in tasca 1.000 euro a lui naturalmente gli cambiano la vita e allora quei 1.000 euro non sono 1.000 euro che si possono calcolare sempre e soltanto in assoluto dipende chi ce l'ha più si sale nella scala di coloro che ce l'hanno e più l'utilità di quei 1.000 euro decresce e la decrescita quella che propone Bernoulli è una decrescita logaritmica il che significa se uno la mette in pratica che poiché il contrario del logaritmo è l'esponenziale che le aliquote delle tasse dovrebbero salire non in maniera lineare bensì in maniera esponenziale e infatti ci sono stati in cui spesso queste tasse arriva anzi quasi tutti gli stati noi questo non lo sappiamo ce lo siamo dimenticati ma nel dopoguerra in Asmerica per esempio in America cioè la patria oggi del liberismo di Trump eccetera le aliquote massime delle tasse erano tra il 90 e il 95% noi la nostra aliquota massima dell'IRPF3 per le persone fisiche è 43% era il 95% e addirittura c'era quel famoso paradosso che uno potrebbe arrivare al 100% questo per dissuadere la gente da guadagnare troppo se tu arrivi a una cifra enorme ad un certo punto io ti tolgo tutto quello che guadagni e quindi a quel punto smetti di rompere le scatole e lascia che qualcun altro guadagni qui nasce questa idea di utilità decrescente che appunto però poi spesso non viene messa in pratica ma cosa succede siamo ormai nel 900 stiamo cercando di arrivare anche alla fine dell'ora perché poi dopo devono arrivare gli altri che si preparano per Fiorello eccetera e Zermelo 1913 fa un lavoro su teoria degli insiemi che tutti conoscete perché siete stati violentati perché poi qui ormai il termine violenza è così generalizzato che si può usare anche in questi termini siete stati violentati alle elementari o avete violentato i vostri figli o nipoti insegnandogli non più le addizioni 2 più 2 fa 4 no dice 2 più 2 fa 4 è un insieme con due elementi è un altro insieme con due elementi disgiunti voi fate l'unione e quello è quello che c'è nell'unione dei due insiemi disgiunti vabbè comunque questa teoria degli insiemi nel 1000 anche lei non l'ha mai digerita vedo che gli altri tutti hanno praticamente questa teoria degli insiemi viene applicata agli scacchi in una maniera molto interessante perché Zermelo dice certo quando noi giochiamo in genere ci sono tre possibilità giochiamo un gioco possiamo vincere possiamo perdere o in certi giochi possiamo pareggiare ma Zermelo dice attenzione perché c'è un concetto più sofisticato non è soltanto vincere perdere o pareggiare ma avere una strategia vincente e l'esempio più tipico per farla capire è questo gioco che c'è sulla sinistra che si chiama Tris che tutti voi conoscete che si gioca con i cerchietti e con le crocette e voi sapete se non lo sapete per quello che perdete che il primo giocatore ha una strategia vincente ci sono due o tre regole che basta seguire se uno comincia per primo e vince certo che bisogna partire per esempio mettendo vedete che questo qui vince con i cerchietti mettendo un cerchietto al centro e così via ce ne sono due o tre di queste regolette che cosa fanno queste regolette tolgono il piacere del gioco perché se uno sa come vincere dopo un po' c'è che gusto c'è e anche a giocare come secondo se uno sa che il primo vince non c'è gusto ora la cosa interessante è che Zermelo dimostra e questo è un teorema sorprendente che in tutti i giochi finiti come gli scacchi la dama il go eccetera in tutti i giochi finiti uno dei due giocatori ha una strategia vincente in genere il primo perché c'è sempre quasi sempre in tutti i giochi che di solito si giocano il primo ha un vantaggio quindi il primo ha una strategia vincente oppure il secondo ha una strategia vincente magari può rispondere alle mossa del primo in una maniera che poi alla fine lo fa vincere oppure tutti e due hanno una strategia che se la seguono entrambi finiscono in parità notate non è che c'è una scelta in ciascun gioco una di quelle tre possibilità succede per esempio nella dama si sa che il primo vince ormai col computer sappiamo anche appunto qual è il giocatore negli scacchi non si sa ancora ma si pensa che sia il primo giocatore perché gli scacchisti lo sanno eccetera e questo è un bellissimo teorema ci dice che i giochi sono divertenti solo quando sono sufficientemente complessi un po' più complessi del tris da non sapere chi è che ha la strategia e allora c'è la strategia però non sappiamo qual è non sappiamo chi ce l'abbia continuiamo a giocare un po' alla cieca che è un po' come si fa appunto nel gioco della politica von Neumann 1928 von Neumann è il signore lì che si prende questa medaglia sulla sedia a rotelle giustamente perché è uno dei dottor stranamore del novecento è colui che a parte qui ne parliamo per i giochi a somma zero perché è stato uno di coloro che hanno dimostrato i teoremi fondamentali di questo della teoria dei giochi però è uno di quelli che ha lavorato è uno degli inventori del computer per esempio i computer di oggi hanno quella che si chiama l'architettura di von Neumann è uno di quelli che ha lavorato la bomba atomica e uno dei suoi contributi è stato calcolare il punto sopra la superficie in cui deve scoppiare la bomba per fare i maggiori danni possibili pensate che meraviglia non è una cosa cioè non basta la bomba atomica no bisogna anche sapere calcolare dove farla esplodere di modo che le onde d'urto siano il peggio possibile ma comunque cosa trova von Neumann nei giochi a somma zero quali sono i giochi a somma zero sono quelli in cui se uno vince l'altro perde cioè come per esempio non so si gioca a denaro io punto e se vinco prendo il denaro e quell'altro che gioca contro di me invece lo perde ci sono anche per fortuna al mondo giochi non a somma zero per esempio come si dice sempre il matrimonio dovrebbe non essere a somma zero però infatti spesso gli alimenti sono molto superiori alla somma zero ma che cosa inventa come non proprio lui ma lui dimostra che c'è questa idea del minimax minimax è una cosa interessante anzitutto si capisce che nei giochi non si può pretendere di vincere sempre e questo di nuovo è una cosa che dovremmo imparare nella nostra vita non si può vincere sempre che cosa si può fare sempre evitare il peggio e Calvino Italo Calvino se una notte d'inverno viaggiatore inconscientemente inconsciamente lo dice in una maniera ottima dice il meglio che si possa ottenere è di evitare il peggio questo è importante perché è già un'assicurazione se noi giochiamo come si deve effettivamente possiamo evitare il peggio e allora ultime slide perché devo dire questo perché così almeno lui crede che io stia per finire ma sono veramente verso la fine questo è ovviamente il matematico più famoso del secolo lo vedete qui al festival di Roma dove gli abbiamo fatto queste queste pose lui molto perplesso come era di fronte alla vita e a tutto il resto che cosa inventa Nash? Nash inventa una nozione che è molto interessante ed è molto meglio dell'ottimo paretiano per esempio è l'idea di quello che viene chiamata equilibrio di Nash cioè siamo due che stiamo comportandoci in una certa situazione in un certo modo ciascuno di noi fa la propria mossa io faccio questo tu fai quell'altro noi non sapevamo quello che l'altro avrebbe fatto prima ma una volta che ciascuno dei due ha fatto quello che doveva si medita su quello che è successo e io dico ah se avessi saputo che lui faceva così avrei fatto uguale comunque cioè in altre parole non mi pento di ciò che ho fatto e l'altro la stessa cosa questo è un equilibrio di Nash quando tutti e due dicono se anche avessi saputo cosa l'altro avrebbe fatto e non lo sapevo io ho fatto una certa cosa e la rifarei in ogni caso e questo è quello che Nash dimostra che esiste in tutti i giochi purtroppo non in maniera assoluta ma in maniera probabilistica ma questa è una cosa che non ci interessa in questo momento e quindi questo l'ho scritto lì sotto anche sapendo cosa avrebbe fatto l'altro lui quello che è in equilibrio avrebbe fatto lo stesso cioè nessuno recrimina perlomeno non si ottiene il meglio siamo nella stessa situazione ovviamente dei giochi di von Neumann a somma zero che sono un caso particolare ma qui la cosa è molto più generale continua a valere e ovviamente naturalmente non l'ho detto ma Nash è il protagonista del film Beautiful Mind anche lui premio Nobel per l'economia nel 1994 questo è uno degli ultimi premi Nobel per l'economia vedete 2012 dati alla teoria dei giochi ma la teoria dei giochi ne ha preso ormai una dozzina il che vuol dire che è uno strumento utilissimo per vedere come comportarsi in situazioni di conflitto o comunque perlomeno di cooperazione con qualcun altro che cosa inventa negli anni 50 notate 1954 Shapley inventa l'indice di potere che cos'è l'indice di potere è un metodo matematico per assegnare ai partiti o ai candidati o meglio ai membri di un consiglio per esempio di amministrazione o un consiglio comunale eccetera un indice un numero che determina qual è il potere che questo partito questo individuo questo candidato ha all'interno di questa situazione e la cosa interessante che si scopre negli anni 50 è che qualcuno ancora se ne stupisce adesso per esempio io non ho nessuna simpatia per Renzi credo che molti lo sappiano ho fatto tutto il possibile nel poco che potevo per impedirgli di far passare la sua riforma elettorale però qualcuno adesso si lamenta e dice ma come mai diamo a Renzi tutto questo potere che ha un partitino così e un partitino così è quello che è essenziale per avere la maggioranza e il suo indice di potere è un indice altissimo rispetto a quello che magari un partito grande ha e che ha però poca possibilità di manovra naturalmente questo è sempre avvenuto chi di voi ha un po' più di età si ricorderà il partito liberale il partito repubblicano che erano piccoli partitini costruiti apposto per quello 2% ma bastava per dare la maggioranza uno all'altro e quindi si poteva usare e allora questa è la fine diciamo così di questa carrellata le ultime due o tre slide sono su i motti che i grandi personaggi della storia più o meno grandi a seconda delle proprie preferenze hanno dato tutti questi erano degli ingenui perché perché pensavano di aver trovato un modo di suggerire alla gente di comportarsi che potesse essere universalmente valido in qualunque situazione tu fai così e questi motti sono quelli che ben sapete Confucio per esempio che ovviamente potete capire qual è di questi qua non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te perché molti scambiano questo detto di Confucio con quello di Gesù che è l'esatto contrario fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te il primo motto è un motto diciamo così pacifista lascia stare quelli che ti lasciano stare e invece quell'altro è un motto e non è un caso che i confuciani e più in generale gli orientali abbiano queste strategie di contenimento e che gli occidentali cristiani invece abbiano strategie di aggressione sponete che voi siate un masochista e cosa fate io sono masochista mi piace che mi fai del male e allora vengo e te lo faccio pure a te questo non va bene e fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te Hobbes che lo dice in latino ma non cambia naturalmente la situazione è esattamente la stessa cosa non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te e Kant che aveva quest'idea dell'imperativo categorico che dice comportati come se tutti come faresti se sapessi che tutti si comportano nello stesso modo o come vorresti che tutti si comportassero in quel modo lì tutte queste cose sono cose ottime in certe situazioni e in altre situazioni non funzionano due esempi che siamo alla fine veramente questa volta la Tosca che adesso vi canterò vi canterò quest'aria perlomeno la famosa aria della Tosca vedete come poi alla fine si scoprono delle cose che uno non penserebbe uno va all'opera e dice si vedono questi due questa signora lì che non aveva nemmeno bisogno di pugnalarlo perché è sopra di lui sono Tosca e il commissario voi sapete che Tosca aveva un fidanzato questo fidanzato è stato messo in galera dal commissario il quale voleva fare violenza sulla Tosca e che cosa succede a un certo punto che il commissario promette che in cambio del cedimento della signora il fidanzato sarà liberato e lei promette di cedere appunto in cambio della liberazione e poi che cosa succede sulla scena esattamente contrario perché l'altro già dato il commissario ha già dato l'ordine di fucilazione del fidanzato quindi indipendentemente da ciò che poi farà la signora vedete lui ha già fatto la sua scelta e lei invece ha deciso di ucciderlo per non cedere naturalmente ci sono molte cose nascoste nella Tosca una che vi dico perché è abbastanza divertente è che nel momento in cui lei accetta questo patto e quindi dice sì sono disposto a concedermi a te purché tu liberi il mio fidanzato di dietro ci sono i violini che fanno un ostinato di due sole note che lei lo sa la signora pervertita che sono la e do sono due note e così che comunque quando continuano essere ma non sono io questo è Puccini e questo è interessante perché in questa situazione nella Tosca c'è un unico equilibrio di Nash che è appunto fai agli altri ciò che temi sarà fatto a te cioè io temo che tu mi freghi e io ti frego oppure non fare agli altri ciò che temi non sarà fatto a te io non ti do quello che temo che tu non mi darai nella situazione e cioè dal punto di vista razionale è razionale non collaborare ma sarebbe più utile o più ragionevole se vogliamo usare i termini di Leopardi invece collaborare questa è una situazione strana vuol dire che gli equilibri di Nash sono condizioni necessarie per il comportamento razionale ma non sufficienti ci sono delle situazioni in cui appunto seguire l'equilibrio di Nash ti porta fuori strada e l'altro esempio invece è l'esempio di Gioventù Bruciata 1955 il famoso film con James Dean che gli è piaciuto così tanto che poi l'ha fatto anche nella vita reale in effetti si è schiantato contro un albero e qui invece la cosa interessante è che ci sono due equilibri di Nash però sono equilibri non simmetrici solo uno decide di buttarsi e l'altro quindi continua a guidare e vince però se tutti e due avessero seguito questa roba naturalmente si sarebbero sfraccellati e la cosa interessante è che qui i due equilibri di Nash non sono simmetrici ma il gioco lo è e quindi questi due di nuovo il comportamento razionale non c'è perché in un gioco simmetrico l'unico comportamento razionale è che tutti e due facciano la stessa cosa se vogliono essere in equilibrio e questa è veramente l'ultima per finire qualche suggerimento bibliografico questo di sinistra è un bellissimo libro per coloro che leggono libri che forse non dovrebbero cioè la Bibbia si chiama Biblical Games ed è l'analisi fatta da un teorico dei giochi che si chiama Steve Brams delle situazioni che si trovano nella Bibbia per esempio il giudizio di Salomone in cui ci sono le due madri ricordate con il bambino che uno dice taglialo non taglialo eccetera e lui calcola gli equilibri e si accorge che spesso nelle storie che vengono raccontate nella Bibbia effettivamente i protagonisti scelgono quelli che sono gli equilibri di Nash perché vuol dire che la matematica non fa cose a capocchia solo i politici possono pensare o il professor Cacciari possono pensare che la matematica bisogna tenerla fuori no la matematica è un modo di astrarre dalla ragionevolezza comune e di fare diventare queste cose una teoria in centro c'è un libro sul dilemma del prigioniero che è appunto il dilemma della Tosca ce ne sono tanti altri un esempio tipico del dilemma del prigioniero era quando c'era la vendita per corrispondenza cioè voi volete comprare qualcosa per corrispondenza e l'altro ve la deve vendere voi siete i compratori e vi conviene non pagare perché se l'altro non vi manda la merce perché dovreste pagare e se l'altro ve la manda meglio avete preso la merce non l'avete pagato quindi il vostro comportamento vi conviene non pagare e l'altro penso uguale dice perché io gli devo mandare la merce se mi paga dice mi tengo i soldi e me la metto così e se non mi paga perderai la merce quindi l'equilibrio qual è? che nella vendita per corrispondenza chi vende non manda e chi compra non paga ma allora che cos'è e questo vi dice che la razionalità effettivamente non aveva tutti i torti leopardi se mai l'ha detto a dire attenzione perché razionalità e ragionevolezza non sono sempre compatibili e questo libro vi racconta la storia del dilemma del prigioniero che è molto usato in politica non tanto nelle elezioni ma nella corsa agli armamenti per esempio nella crisi del Medio Oriente ci sono state infinite applicazioni dalla teoria dei giochi a queste cose capire che tipo di gioco si stava giocando e quale fosse la strategia ottimale e l'ultimo è un testo su matematica e politica perché negli Stati Uniti a differenza dell'Italia credo per quanto ne so io questi corsi di matematica e politica sono quotidianamente o perlomeno annualmente offerti sia agli studenti di matematica perché è divertente vedere un'applicazione della matematica di questo genere sia agli studenti di scienze sociali perché è divertente fare le scienze sociali come scienze e non soltanto come filosofie se qualcuno poi di voi vuole per amore nei confronti del conferenziere un libro invece scritto da me sull'argomento si chiama La democrazia non esiste che è il titolo del teorema di Arrow comunque in cui ci sono tra l'altro interviste sia ad Arrow che a Marti Assen ma anche a due esperti di politica italiana che erano Andreotti e Cosigano e quindi per mettere insieme le due cose ma con questo mi puoi dire di finire perché effettivamente ho finito grazie una teoria matematica del comportamenti una grande lezione di Pier Giorgio Di Freddi ha aperto la quarta giornata del festival della comunicazione grazie ancora Pier Giorgio Di Freddi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti